Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova panoramica settimanale sui mercati. Iniziamo da quello italiano, poi avremo il tedesco e infine l'americano. A che punto siamo arrivati? Allora, per quanto riguarda l'indice, sappiamo che da qui è partito un annuale, un T5 in gergo, che da qui sta partendo sul secondo semestrale, primo semestrale, secondo semestrale. Il primo semestrale è durato 160 giorni, il secondo per ora 92. E una durata, diciamo, minima per un semestrale è 24-48, un 96 giorni. Quindi potremmo essere già persino, addirittura, d'arrivo per la chiusura del secondo semestrale. Quindi, sapendo questo, andiamo a vedere anche che cosa sta succedendo di inverso, ovvero ciclica dei massimi. Quindi, andiamo a prenderci quanto sta durando l'annuale inverso, ovvero quello che si fa, si conteggia dei massimi, provoca discesa e poi torna a salire a creare nuovi massimi. E quindi chiude non con un minimo, ma con un massimo. E parte da un minimo, e da un massimo e non da un minimo. Qui siamo arrivati alla bellezza di 270 barre. Sono tante, sono poche. Abbiamo che in media un semestrale dura 64 più 64, quindi un 128 giorni. Però, abbiamo anche che la durata massima è quella di 168 giorni. Quanto siamo arrivati, quindi, a fare? Sul primo abbiamo avuto un primo semestrale corto, che ha fatto soltanto 105 giorni. Successivamente, qui non abbiamo avuto semestrali, e stiamo andando a chiudere un semestrale ora. Essendo però arrivati già a 164 barre, che trovate riscritte qua, 164, adesso riallargo il grafico, e ricordiamoci che, al massimo, appunto, come detto, un semestrale dura 168 barre giornaliere, giorni. E mancano 4. Abbiamo qui la condizione sufficiente per la chiusura dell'annuale? Sì, ce l'abbiamo. Perché qui abbiamo fatto un massimo assoluto a 164 giorni, che porta a farci vedere tutto un semestrale inverso ribassista, per cui, proprio sul top a 24.221, potremmo aver avuto il massimo assoluto di questo annuale ciclico, iniziato, appunto, a marzo. Andiamo però a scindere, il semestrale torna, i mensili tornano, ne abbiamo avuti persino, appunto, secondo trimestrale inverso. Il secondo trimestrale inverso è già arrivato comunque a durare parecchio, perché 84 barre potrebbe essere il massimo, eventualmente 85 tiriamo, ma viceversa potrebbe essere già fermato qua. Primo trimestrale, secondo trimestrale da 59 barre. Poi cosa può esserci stato? Può esserci stato un raccordo inverso, ma abbiamo superato le 43 barre massime di durata di un mensile inverso, di un TPU inverso, per cui, già da qua avevamo potuto avere la discesa per la chiusura dell'annuale, però la condizione non ce l'abbiamo avuta, sia per il discorso del tempo sull'indice che vi ho fatto vedere, che per il fatto che non abbiamo avuto un TPU2, ovvero un mensile, inverso a chiusura. Quindi che cosa mi aspetto? Uno, bisognerà capire un pochino che cosa vogliono fare qua, perché ci sono i presupposti per far partire un TPU2 inverso, perché oltretutto qui, nella realtà dei fatti, si sia avuto, appunto, già un raccordo inverso, quindi abbiamo già superato un massimo di durata del TPU4 inverso, e quindi bisogna, a questo punto, vedere se avremo discesa, perché siamo per andare oltre i tempi massimi. Qui, sull'ultimo TPU2 inverso, attualmente siamo inoltre a 19 più 1, siamo a 20 barre. Minimo mensile inverso nel 2 a 24, teoricamente, guardate qua, 4 giorni. Con questo avremo, tra virgolette, la perfezione. Se salissimo per i prossimi, anzi, fino a giovedì compreso, sarebbe la perfezione anche se avremo due raccordi inversi in più. Uno si giustifica come raccordo inverso, il secondo punto di domanda. Questi 4 giorni tornano per farci chiudere appunto mensile inverso, però nella realtà, difatti, ricordiamoci che comunque i mercati sono approssimabili con delle tecniche. E qui abbiamo comunque un T più 1, un 8 più 11, e da qui può già iniziare la discesa. Per quanto riguarda il DAX, siamo in una condizione molto simile. Dopo aver fatto tutta questa lateralità e tutte le finte dell'universo, siamo arrivati dove il secondo semestrale inverso ha fatto 132 barre, quindi abbiamo superato la durata media. 64 più 64 sono i due trimestrali inversi di durata media, fanno 128 giorni, 128 giorni meno 132, siamo già oltre la durata media di 4 giorni. Per cui anche in questo caso abbiamo la condizione per la chiusura non soltanto di un semestrale inverso, questo, ma anche di tutto l'annuale inverso, sì, ce l'abbiamo e come. Per cui anche in questo caso potremmo iniziare a scendere. E una durata già media diventa comunque importante se vediamo la durata del precedente semestrale che è di 136 barre contro quella più corta invece dell'italiano. Per cui, anche soltanto per un discorso di statistica, avrebbe più senso iniziare a costruire con money management delle posizioni short più ingressi io li chiamo cheap, short. Perché anche in questo caso l'annuale è arrivato già a una buona durata. Siamo a 251 barre di cui 157 nella prima parte e 92 nella seconda. Se arriviamo a 100 abbiamo una durata accettabile per la chiusura di un mensile. Per quanto riguarda invece l'inverso che è in anticipo che è quello che dobbiamo guardare di più, come dicevamo, abbiamo tutte le condizioni per che si sia chiuso l'annuale inverso e che quindi si parta con discesa. Facciamo un'ultimo, diamo un'ultima occhiata a Stano del posto 500. Nonostante questa finta rovinosa che però non ha reso ribassista questo TP2 mensile per poco, perché siamo andati a dunque il minimo qua è a 3694 e qui siamo andati a 3723. Ci siamo avvicinati parecchio. Abbiamo ripreso di gran carriera a salire invertendo la rotta e siamo andati sopra il massimo di cui vi dicevo nelle analisi precedenti 3950 siamo arrivati a 3960 e quindi qui abbiamo avuto il secondo TP1 ribassista che peraltro non ha violato questo minimo e che ci permette di dire che anche questo quarto e potenzialmente ultimo mensile inverso crea la condizione ottimale per la chiusura del non soltanto semestrale inverso in questo caso arrivato a 130 barre anche qui oltre la durata media di 128 non ha giornato siamo a 130 e quindi andiamo a meno due giorni siamo oltre due giorni abbiamo due giorni in più rispetto alla durata media e se andiamo a controllare anche il resto abbiamo tutte grazie a questo massimo abbiamo tutte le condizioni più che sufficienti di durata anche media oltre la durata media per iniziare a far chiudere appunto il TP5 inverso per dire che su questo massimo si è chiuso e che iniziamo una fase di scensiva di discesa per quanto riguarda l'indice oltretutto abbiamo fatto un 128 barre fino a qua al primo semestrale sul secondo siamo arrivati a 117 può chiudere quando vuole nella realtà dei fatti e per chiudere anche l'annuale normale abbiamo bisogno di una discesa qui oltretutto stiamo andando a fare teoricamente con questo il un terzo TP3 ok? stiamo andando proprio oltre la durata media avremmo avuto una chiusura fantastica qui non ce l'abbiamo avuta avremo più di discesa e quanto potremmo avere orientativamente senza andare a scomodare l'algoritmo che utilizzo eh siamo qua perfetto su questo livello che avevo già trovato appunto con l'algoritmo una discesa fino ai 3524 oppure su DAX fino ai 13101 e su il nostro MIB a 21853 questo è quanto se non avete capito molto di quello che dicevo perché non conoscete la ciclica siete alle prime armi la ciclica è voluta se volete distribuisco appunto gratuitamente delle dispense mi potete seguire un po' dappertutto tra cui appunto segnalo sempre investing come canale che potete avere e aprire con una semplice app vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida domenica un po' dappertutto